L'evento che stiamo organizzando è un evento importante dal punto di vista mediatico, ma soprattutto è un evento importante per la comunità scientifica. Per la prima volta avremo la possibilità di avere la Società di Oncologia e Dematologia internazionale con la sede prevalentemente a Houston e con tutti i grandi ricercatori americani che si confrontano con la ricerca scientifica promossa dall'Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico della Romagna, l'istituto che ho il piacere di dirigere come direttore scientifico. È un momento importante perché abbiamo la possibilità di confrontare le migliori terapie, in particolar modo delle leucemie, del mieloma e dei linfomi e di vedere come poter portare ai nostri cittadini italiani in primis le migliori cure in questo momento più innovative, più di risultato e più efficaci. La Society of Ematologic Oncology nasce a Houston ed è la società scientifica ufficiale dell'MD Anderson Cancer Center. Quest'obiettivo annuncia all'Italia, alla società scientifica e ai nostri pazienti che nasce la Society of Ematologic Oncology Italy, in cui ci affiancheremo i professionisti dell'MD Anderson Cancer Center, come il professor Cantarjan, la professoressa Cono Pleve, il professor Edaber, il professor Jabur e tanti altri, nel dirigere una società che voglia indirizzare il paziente verso le cure più innovative. L'evento si realizzerà a Roma il 25 e il 26 settembre al Crown Plaza Hotel, ma abbiamo realizzato dei canali social network su Facebook, Instagram e un sito internet dedicato www.mdendersonsoitaly.it sui quali verrà realizzata una diretta web gratuita. L'obiettivo è consentire ai giovani l'iscrizione gratuita, l'ospitalità a Roma per l'evento stesso e avere la possibilità di impegnare tante risorse per far sì che tutti i nostri giovani siano coinvolti nell'evento stesso e nella realizzazione delle attività della società scientifica. Vi aspettiamo tutti nel sostenerci attraverso i canali che abbiamo realizzato, ma soprattutto nel sostenerci nel nostro sogno, che nessun paziente debba più viaggiare per realizzare una cura, per essere sottoposto a una cura onquematologica, affinché tutte le cure in tutto il mondo possano essere le stesse per tutti i nostri pazienti. Questo è il nostro piccolo grande sogno che speriamo di realizzare presto. Grazie. Grazie. Grazie.